lei crede in questo business perché credo che questa pianta salverà il mondo tanto per incominciare allora io da che lei ha detto questa io io lo bacio io io che produce ossigeno il mondo ha bisogno di ossigeno. Questa pianta con queste foglie grandi salverà il mondo. Signore Nivede anche lei anche me a tutti quelli che pianta Paolone a Contevista 2 in tutto il mondo